Nome? Simone. Cognome? Bagnozzi. Soprannome? Bagno. Anni? Trenta. Città natale? Ascoli. Il tuo best ranking? 161. Descriviti in tre parole. Solare, gentile, simbario. Sei fidanzato? Sì. Il tuo colpo migliore? La smorza. Quale cambieresti? Servizio. Terra o cemento? Terra. Il tuo piatto preferito? Lasagne. Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. Il torneo dei sogni? Winter. Il tuo idolo sportivo? Lebron James. Quante e quali lingue parli? Tre. Italiano, inglese e spagnolo. Hai la patente? Sì. Hai mai provato sostanze stupefacenti? No. Sicuro? Sì. Cosa fai la sera durante i tornei? Dormo. Cosa non ti piace del tuo lavoro? Il dover fare sempre le valigie? Il posto più bello dove hai giocato? No. Forse Numea. Il tuo miglior amico nel circuito? Ce ne sono tanti. Uno? Cipo. Peggior compagno di doppio? Sempi tutta la vita. Federer, Nadal, Djokovic o Marai? Nadal. Il miglior momento della tua carriera? Terzo turno a Barcellona? E se non fossi diventato un giocatore di tennis? Tarciatore. La tua squadra del cuore? Inter. Destro o sinistra? Destro. La tua meta di vacanza preferita? Formentera. Se potessi scegliere un personaggio famoso con cui andare a cena una sera, chi chiameresti? Donna o... Quello che vuoi. Oppure tutti e due? Uomo, Brad Pitt. E... Donna, Ivanovic. E per finire un saluto agli amici di Crionet. Ciao a tutti, ci vediamo presto.